Il magistrato Nino Di Matteo e la sua scorta sono in serio pericolo di vita, dal tempo minacciato da Torino e di pochi giorni fa la notizia dell'arrivo del titolo a Palermo, le istituzioni e i media si sono pronunciati con un assordante silenzio e ancora oggi non viene disposto sull'auto di scorta di Matteo un dispositivo chiamato Bomb Jammer, questo dispositivo permette di inibire il segnale che fa un telecomando, il telecomando fa spadola una bomba, il ministro dell'interno Alfano, Romese che presso di Matteo avrebbe avuto Bomb Jammer, poi mi hanno detto che era proibito perché se ci sono la gente complessa, non so chi sia il suo perito elettronico, comunque, ma il ministro Alfano tutt'oggi si è limitato a aumentare il numero degli uomini della scorta, ciascuno di noi è chiamato a prendere posizioni nei confronti di quanto sta accadendo.